Dopo l'anteprima del motoraduno della settimana scorsa e la serata con padre Alex Zanotelli, combattiti di pesca e viviamo Cilento e viviamo Sapri in programma fino ad oggi, si è aperto il cartellone delle manifestazioni per l'estate 2014. Una stagione agli insegna dello sport, delle tradizioni storiche, della gastronomia, della cultura e dello stare insieme, per un fitto calendario di eventi che scandiscono la stagione estiva nella città della Spigoladrice. Dopo la conferma della bandiera blu e dell'assignazione della bandiera verde che riconosce le spiagge saprese a misura di bambino, il cartellone degli eventi arricchisce un'offerta che non tocca solo il turismo balneare. Il mare e la baia circondate dalle splendide colline infatti saranno un palcoscenico d'eccezione che faranno da cornice a tutti gli eventi in programma. A parte qualche variazione e sorprese dell'ultima ora, il programma ripropone anche quest'anno la regata delle torri saracene dopo il grande successo degli anni scorsi, dall'8 all'11 giugno. Un'altra rassegna comprende sport, turismo e benessere che si svolgerà dal 5 al 12 luglio, in contemporanea con le gare internazionali di bodybuilding e fitness. Ma la manifestazione sportiva più attesa sarà quella legata alle Olimpiadi del Mare, dal 21 al 23 luglio. Spazio e la natura e la gastronomia con le notti blu del 28 giugno e del 12 luglio. Nel segno della storia l'evento principale della settimana clu di agosto con la rievocazione storica dello sbarco in città dei 300. Tra gli eventi conclusivi dell'estate inoltre da sottolineare quello organizzato dall'associazione Sapri anni 60, dal 23 al 27 agosto, che vedrà presenti sul lungomare Italia figure del mondo dello spettacolo come Giampiero Mughini, i Cugini di Campagna, Bobbi Solo, Nino D'Angelo, Alessandro Gaudio, Franco Guizzo ed Edoardo Bennato. Il triatrono olimpico chiuderà la stagione a metà settembre.